Ciao a tutti amici dell'incazzato.it, oggi siamo in compagnia di Imma Pastena che è la presidente dell'associazione Arcobaleno della Vita e ci spiegherà ai nostri microfoni cosa è l'associazione e di cosa si occupa. Ciao Imma. Ciao Paola e salve a tutti. L'associazione si occupa di clown terapia, noi siamo dal 2010 presenti presso il reparto di chirurgia pediatrica del nuovo Policlinico di Napoli dove in realtà non facciamo altro che far trascorrere delle ore liete ai bambini che sono lì nel reparto insomma degenti. Ovviamente sappiamo bene che la degenza per il bambino è diversa dalla degenza di un adulto, spesso i bambini sono stanchi, sono scocciati, noi cerchiamo di andare lì, facciamo del nostro meglio ovviamente, facciamo in modo che il bambino attraverso il gioco possa trascorrere un pomeriggio all'insegna dello svago, del divertimento non pensando ovviamente alla propria malattia in quel momento. In quale reparto operate? Noi operiamo principalmente nel reparto di chirurgia pediatrica dove ecco ci tengo a precisare siamo molto supportati dal primario, dal professor Settimi, dalla caposala, dalla signora Anna Maria D'Oro e soprattutto poi dalle infermiere che ogni volta che ci vedono sono sempre molto contente perché sanno che i bambini ci aspettano e noi non possiamo mancare a questi appuntamenti. Abbiamo parlato quindi di clown terapia sul modello di Patch Adams, sono del modello americano, di cosa si tratta nello specifico? Un clown in ospedale con dei bambini cosa fa? Un clown in ospedale con i bambini porta soprattutto un sorriso, porta colori, porta tutto quello che è il gioco perché sappiamo bene che il bambino gioca, vuole giocare, vuole svagarsi con la mente ed essere proiettato poi nel mondo delle favole. Tanto è vero che molti dei nostri clown, i nostri volontari sono addirittura dei cantastorie. Il bambino attraverso la favola raccontata da un volontario vestito con il camice vario pinto, il nasino rosso e il cappellino colorato è attratto molto e quindi si proietta automaticamente insieme al volontario stesso nel mondo dei sogni. Un'associazione quindi davvero esemplare, ma che tipo di difficoltà un'associazione del genere che fa del bene del volontariato può incontrare oggi a Napoli? Sì effettivamente è vero, hai ragione. Noi come già ti ho detto facciamo del nostro meglio. Un'associazione di volontariato oggi a Napoli incontra tantissime difficoltà, difficoltà soprattutto economiche. Noi in realtà non abbiamo una sede ma proprio perché avere una sede oggi costa, costa parecchio e quindi di conseguenza le difficoltà economiche sono tantissime anche dal semplice acquisto del materiale perché quando andiamo in ospedale noi comunque portiamo palloncini colorati, facciamo il trucco a bimbi, cerchiamo ecco tante volte di portare anche dei giocattoli però purtroppo questo richiede un costo e noi i soldi non ne abbiamo. Le istituzioni finora sono state assenti. Certo non è una novità quella che dico io, è una realtà, una dura realtà e noi ecco tutto quello che abbiamo fatto in questi anni l'abbiamo fatto sempre di tasca nostra, non abbiamo mai chiesto nulla a nessuno ma proprio perché anche se chiedevamo secondo me non avevamo nulla ecco. Quindi a questo punto abbiamo pensato proprio di non chiedere nulla. Voi come associazione in passato avete anche, siete stati anche promotori di due progetti molto importanti. Come hanno risposto le istituzioni e che fine hanno fatto questi progetti? Guarda, se ti rispondo che loro hanno soltanto dato il patrocinio morale penso che mi crederai. Quindi sì è vero, noi ci tenevamo tanto a mettere in pratica nel migliore dei modi questo progetto patrocinato dal Comune di Napoli per l'emergenza a freddo, quindi rivolta senza fissa di mora della città di Napoli. Avevamo tanto il desiderio di dare il nostro supporto morale soprattutto a queste persone che per scelta di vita, per conseguenze legate al proprio status sociale sono comunque abbandonate in strada e purtroppo niente, non abbiamo potuto fare altro che accertare l'arrivo del patrocinio morale. Un altro bel progetto è quello che vorremmo tanto poter mettere in pratica ma chissà, noi attualmente abbiamo questo progetto scritto sulla carta che è un cortometraggio sociale ed è un cortometraggio che vuole in un certo senso divulgare e diffondere la cultura del clown terapeuta negli ospedali del sud Italia perché questa è una figura professionale che attualmente non è riconosciuta in Italia e che addirittura è poco diffusa qui al sud. Noi attraverso questo cortometraggio a cui parteciperanno molti artisti del mondo dello spettacolo, nostri sostenitori, cercheremo proprio di fare in modo che questa figura non solo venga riconosciuta ma venga diffusa ancora di più non solo nel sud Italia ma anche al nord. L'unica cosa che ci manca, forse ti sembrerà strano, sono le videocamere professionali. Guarda, vi faccio una risata perché noi abbiamo tentato anche con magari vari sponsor chiedendo una produzione ad alcune case di produzione cinematografica ma purtroppo loro ci dicono che hanno bisogno di sostenere i loro costi e noi rispondiamo noi soldi non ne abbiamo. L'unica cosa ti ripeto manca quello perché in realtà abbiamo gli artisti che gratuitamente si sono messi a disposizione e quindi saranno partecipi durante questo cortometraggio, abbiamo Silvio Laurenzi che è un grandissimo stilista di Cinecittà che farà gratuitamente i costumi ma l'unica cosa che ci manca sono proprio le videocamere professionali, cioè quelle che sono proprio negli studi televisivi. Quindi a questo punto se mi permetti Paola io faccio un appello a coloro che in questo momento ci stanno guardando. Se ci potete aiutare, noi abbiamo bisogno al massimo di due telecamere, non di più, per fare in modo che questo cortometraggio possa essere proiettato anche durante i migliori festival a livello internazionale.